Al nostro mondo manca qualcosa. Gli straordinari animali cancellati dal tempo. E se potessimo farli ritornare in vita? E se l'estinzione non fosse un processo irreversibile? Stiamo per partire per un safari davvero unico. Lo zoologo Nigel Marvin farà un viaggio indietro nel tempo e cercherà di salvare creature sull'orlo dell'estinzione. Benvenuti nella riserva naturale unica al mondo. Benvenuti al Prehistoric Park. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.